stiamo vivendo un'emergenza umanitaria che per noi e per i nostri figli non è mai stata così vicina non solo geograficamente ma anche perché lo stile di vita e la cultura delle persone che ne sono vittima sono del tutto analoghi ai nostri città come le nostre dalla sera alla mattina sono state sventrate dalle bombe sono diventate teatro di guerra case come le nostre dentro le quali famiglie si sentivano al sicuro sono state colpite da missili e bombe bambini come i nostri hanno perso tutto hanno dovuto lasciare i padri a combattere sono dovuti scappare senza poter portare niente con sé per difendersi dalle bombe e per cercare di raggiungere un confine per abbandonare la loro terra e la loro patria senza sapere assolutamente cosa avrebbero trovato e dove sarebbero andati per trovare rifugio tutto questo non può lasciarci indifferenti negli ultimi due anni ho avuto il piacere di condividere con centinaia di migliaia di bambini la gioia del viaggio della scoperta della curiosità del gioco dell'istruzione della cultura dell'arte abbiamo condiviso emozioni e valori ora è venuto il momento di condividere altri tipi di emozioni save the children è tra le organizzazioni internazionali che stanno adoperandosi per portare soccorso ai bambini e alle famiglie dei bambini in fuga per contrastare l'emergenza umanitaria ora tocca a noi essere al loro fianco nei giorni scorsi mi sono confrontato con loro per capire come il coditrip tutti i partecipanti che desiderino farlo avrebbero potuto dare un segnale collettivo di partecipazione all'azione che save the children sta portando avanti e finalmente abbiamo trovato il modo per farlo è possibile aderire ad una campagna di donazione che vada direttamente a beneficio della iniziativa emergenza ucraina di save the children italia vi invito a farlo vi invito a farlo anche in nome di coditrip in modo tale da dare un ulteriore segnale ai nostri alunni ai nostri figli far capire come anche piccole azioni individuali possano dare un grande contributo collettivo e cercare di fare la differenza per portare avanti quei valori che tante volte vengono dichiarati o di cui si parla ma che in certi momenti della storia bisogna difendere in prima persona invito tutti coloro che in qualche modo hanno preso parte a coditrip a trasformare il valore che attribuiscono a questa iniziativa in valore che vada in soccorso alle persone che in questo momento ne hanno più bisogno grazie a tutti per quello che farete